Entro il 16 marzo si avrà una risposta definitiva, ma si deciderà sulla base delle proposte dei comitati regionali. Il campionato di eccellenza è pronto a tornare in campo e la conferma è arrivata dal Consiglio della Lega di Lettanti, andato in scena mercoledì pomeriggio, alla presenza dei vertici federali e in contatto con i presidenti dei diversi comitati. Nel Consiglio federale del 5 maggio la Federcalcio ha dato ampio potere decisionale alla LND per quel che riguarda protocollo sanitario, format e date di ripresa dalla massima categoria regionale italiana. La federazione dilettantistica nell'incontro di ieri ha sancito invece l'autonomia di ogni regione. Ogni comitato infatti ha presentato la sua proposta per la ripartenza dei rispettivi campionati, con la Lega di Lettanti che ha preso in carico le documentazioni e le ha trasmesse a Federcalcio e Coni. La FIGC dovrà approvare a strettissimo giro le direttive emesse dal Consiglio direttivo di ieri, mentre il Comitato Olimpico nel Consiglio nazionale del 16 marzo ratificherà definitivamente il documento per il preminente interesse nazionale, con tutti i criteri ufficialmente adottati e recepiti. La LND, in ogni caso, ha fissato dei punti non negoziabili, blocco delle retrocessioni per questa stagione, adesione alla ripartenza su base volontaria e successiva esclusione dalle graduatorie di ripescaggio per i prossimi due anni, per i club che non prenderanno parte a questa stagione, divieto di allenamenti per le squadre che non riprenderanno le attività ufficiali, allenamenti collettivi consentiti dopo la ratifica del Coni del 16 marzo. Confermato poi lo stop per tutte le categorie della promozione in giù e per i campionati juniors di Serie D. Non c'è ancora una data precisa per il ritorno in campo per i match ufficiali, ma le indiscrezioni a margine del Consiglio direttivo parlano di domenica 11 aprile. In giornata, invece, è attesa la comunicazione ufficiale del Comitato regionale pugliese, che ieri, dopo l'incontro della Lega di Lettanti, ha annunciato che nel giro di 24 ore avrebbe inviato una lettera ufficiale a tutti i 27 club di eccellenza per riportare le disposizioni sulla ripartenza in Puglia, aspettando ovviamente la ratifica del Coni del 16 marzo.